Allora ringraziamo gli organizzatori, direttori del dipartimento e della sezione INFN per averci dato appunto l'opportunità di venire qua e raccontarvi la nostra attività di ricerca in cui siamo implicati, come ci ha introdotto vi parleremo di quello che si fa all'LHC, al collisionatore adronico LHC e in particolare gli esperimenti Atlas e CMS. Allora come prima cosa vorremmo cercare di darvi una prospettiva storica un po' più ampia del problema, come abbiamo fatto arrivare a bosone di Higgs e oltre, spiegandovi che nel 900, questa è una cosa che vedrete quest'anno e sicuramente al quarto e il quinto anno, è stato un secolo in cui esperimenti e teorie si sono rincorsi verso una comprensione sempre più profonda delle interazioni fondamentali. E sono arrivati a individuare tre pilastri, il primo è che esiste, che la materia, il suo circonda, è costituito da un numero finito di particelle elementari, quindi veramente i gradi di libertà fondamentali non ulteriormente riducibili. Questo che ci dice l'esperimento. Partendo dall'elettrono di Thomson, il muone dei raggi cosmici, il neutrino E di Reines e Cowan, così via, quark charm, fino al neutrino tau del 2000, va bene? Il num è finito, queste sono state via via scoperte e classificate. Quello che veramente distingue queste particelle è il modo in cui interagiscono, va bene? E le interazioni appunto si declinano in tre forze, in tre tipologie. Questa è una cosa che sicuramente conoscete o che avete già sentito parlare. C'è la forza elettromagnetica, va bene? C'è la forza forte e la forza cosiddetta debole. Ora, un paradigma della meccanica quantistica che sarà l'oggetto del terzo anno di studi è che le forze sono a loro volta associate a delle particelle, va bene? Chiamiamo queste particelle mediatori delle forze. Ora, che il campo elettromagnetico sia quantizzato, che esista il fotone è una cosa abbastanza quasi intuitiva per dei fisici, però fidatevi della stessa cosa, si può estendere agli altri tipi di forze. Quindi esistono anche i mediatori della forza forte, i gluoni e i mediatori della forza debole sono le particelle W e Z, va bene? Ricordiamoci questi nomi. E poi ci sono una serie di paradigmi, di framework, se vogliamo. Sappiamo che la fisica deve essere quantistica, intimamente quantistica, sappiamo che deve obbedire ai principi di relatività e abbiamo scoperto via via che esistono una serie di simmetrie, di proprietà che la natura implementa preferenzialmente, va bene? Ora, preso atto di tutto questo, ci si può chiedere, questi pilastri possono sostenere, diciamo, l'intuizione grande da Fermin poi, esiste un'unica teoria che possa reggeci su questi pilastri? Ebbene, in effetti a partire dagli anni 60 del secolo scorso, si è venuto via via formalizzando un modello che cerca di unificare queste tre forze, cioè dare una spiegazione unica di queste interazioni. Però c'è un grande problema, è vero che cerchiamo di dargli una stessa origine, però sono molto diverse, c'è una grande differenza, e qual è? Beh, che le interazioni deboli sono appunto cosiddette deboli perché sono a corto raggio, cosa vuol dire? Beh, in termine dei mediatori, delle particelle mediatrici, questo è detto W e Z, beh, queste due particelle, a differenza del fotone, hanno una massa, va bene? Questo le rende in qualche maniera deboli. Ora, interazioni deboli sono quelle, per intendersi, responsabili dei decadimenti beta dei nuclei, che i nuclei pesanti decadono in virtù di queste interazioni, e la Z è un po' più delicata che fa, per esempio, con il fatto che in visica atomica a volte si trova che la parità non è rispettata, e questo ha a che vedere, sono effetti piccolissimi ma non ha a che vedere con questa Z, ok? Bene, c'è questo grande problema, come faccio a dare una descrizione univoca che ingloba tutto, però c'è questa grande differenza. Ebbene, è stato scoperto, insomma, è stata la grande idea di Higgs e altri, è stato che, beh, se io introduco un'ulteriore particella, che non ho mai osservato, ok? Di cui la natura non mi ha mai dato segnali finora, riesco un po' con la matematica ad aggiustare le cose, per cui riesco a dare ragione di questo fatto. Beh, ma ci sono due piccioni con una fava, perché, ebbene, con lo stesso meccanismo si riesce anche a spiegare come mai le particelle di materia hanno massa. In effetti, anche questa cosa è incompatibile col cercare di dare una teoria unificata delle forze. Bene, se io introduco questo nuovo grado di libertà, in qualche maniera riesco a risolvere tutti i problemi, va bene? Ora, cosa rappresenta questo grafico? Rappresenta lo spettro di massa delle particelle elementari, ok? Abbiamo visto, no? La prima slide, via via nel corso del tempo, dall'elettrone, via via, sono state trovate e classificate queste particelle. Se però misurate la loro massa, trovate che tra la più pesante e la più leggera ci sono 12 ordini di grandezza, va bene? Una cosa a priori stranissima però è che con questa particella io spiego un pochino il minimo comune denominatore di tutte le particelle, lo spiego in una botta sola. Bene, allora uno direbbe, ok, è fatta. Ok, un problema però di questa teoria è che questo modello, è che il modello non è in grado di dirti qual è la massa di questa particella, di questo bosone di X. E sì, forse non ho detto che si chiama bosone di X, questa particella è introdotta, va bene? Il modello non può dire qual è la sua massa, quindi resta compito dell'esperimento, trovarla, dimostrare se esiste e misurarne la massa. Ecco che per 30 anni, da quando è stata per la prima volta formalizzata, generazioni di esperimenti si sono succeduti spostando l'asticella sempre un po' più in là, ok? Alla ricerca di questa ipotetica massa. E illustri teorici hanno addirittura scritto un librone dal titolo The X Anders Guide, ok, in cui davano tutte le raccomandazioni, ti scrivevano come farla cercare come proprio un'ossessione, ok? Però non si riusciva a trovare questa particella. Alla fine, nel 94, il CERN approva la costruzione di un nuovo acceleratore, LHC, che poi si vedrà bene in dettaglio, il quale avrebbe dovuto, tra le altre cose, mettere, ok, la parola fine all'esistenza o meno di questa particella. Ebbene, l'LHC parte, la costruzione parte, ci vogliono 20 anni, ok? Però dopo quasi 20 anni da questa cosa, ecco questa caccia arriva alla fine, ok? Perché in soli due anni di presa dati, cioè tanti quanti sono stati necessari per misurare tutti questi punti, beh, per esempio in questo spettro di massa è stato dove, diciamo, gli histogrammi colorati sono il fondo, ciò che voi vi sareste aspettato di vedere, è stato trovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, un eccesso, una risonanza, va bene, che non era predetta e che era assolutamente compatibile con il bosone di Higgs. Infatti poi una serie di scrutini ulteriori hanno confermato, ok, hanno messo la parola fine, hanno detto sì, questa è la particella di Higgs. Tanto è vero che la scoperta avvalza il premio Nobel poi ai propositori teorici, cioè che hanno postulato, come abbiamo visto nella seconda slide, l'esistenza di questa particella. Ok? E poi grazie invece al nostro lavoro, quello di esperimento che ti fa misurare le cose, la particella ha trovato un suo posto nell'Olimpo delle particelle, che è la Review of Particle Physics, in cui c'è una entry anche per lei, la bosone di Higgs, misurata a una massa di 125 GeV, con una incertezza che è migliore del percento. Giusto per avervi un'idea, ricordatevi, no, che l'elettrone, vi ricordate, è mezzo mega elettronvolt, la massa dell'elettrone, quindi sono cinque ordini di grandezza più piccola del bosone di Higgs. Il protone, vi ricordate, è la massa di un GeV, quindi ricordatevi, un GeV è la massa del protone. E se volete trovare qualcosa di parente alla massa del bosone di Higgs, dovete andare nella tabella periodica. Va bene? Ok. Bene, allora a questo punto non direbbe, è finita, avete fatto tutto. Quindi possiamo cambiare, non chiamarlo modello, ma teoria, ok? Una meccanica, una nuova meccanica? Da un certo punto vista sì, perché la teoria, così come viene fuori, con la misura della massa del bosone, che era l'unico parametro che mancava, è una teoria consistente, ok, ed è predittiva. Cioè è in grado di dire, guardate, questa roba, questo osservabile deve venire così, andate nel vostro esperimento e lo misurate, va bene? E in effetti gli esperimenti verificano le predizioni del modello su una scala di 10 ordini di grandezza, dalla fisica atomica fino alla fisica di precisione alle alte energie. E non c'è motivo, diciamo, conclusivo di dire che questo modello non sia corretto. Però uno può anche chiedersi, è una teoria soddisfacente, cioè è vero mi posso fermare, o c'è qualcosa che non va? Sì, ci sono anche motivi di insoddisfazione. Da un punto di vista sperimentale, perché ci sono tantissime cose, che è che il modello, di cui il modello non parla. Per esempio, non si è parlato della gravità, però c'è, e non è inclusa. Non si sa cosa sia la materia e l'energia oscura, di cui l'esperimento, che vi dice qualche cosa che c'è, però non è spiegata dal modello. Anche il fatto che i neutrini sono così leggeri, è una cosa che si spiega male. Questo è l'esperimento, ma ci sono anche motivi teorici, che i teorici magari vi dicono che c'è troppa arbitrarietà. Per esempio, perché ci sono 12 ordini di grandezza tra la particella più leggera e la particella più pesante? È una cosa estremamente improbabile, no? Se voi doveste cucinare un modello, non vi mettereste a fare una cosa così complicata, così difficile da spiegare. Il secondo argomento, molto forte, si chiama naturalezza, e da a che fare, naturalezza vuol dire, ma perché la massa del bosone è quella che è, ok? È così leggera. Allora, per capire più in dettaglio questo argomento, un po' più delicato, cerchiamo di fare un passo indietro. Allora, le interazioni fondamentali, a livello quantistico, ok? Abbiamo visto che sono associate allo scambio di particelle virtuali. Facciamo un esempio. Allora, voi tutti sapete, da fisica 2, no? Che mettete un protone qui, questo vi genera un potenziale, in opportunità, no? Vi ricordate si scrive così, potenziale di Coulomb, e una carica test, un elettrone, sente questa energia, ok? Se volete descrivere questo a livello quantistico, quello che è sufficiente fa la seguente cosa. Dite che è un elettrone e un protone, ok? Si scambiano un fotone virtuale, ok? Una particella virtuale. Questa cosa qui, questo diagramma di Feynman, spiega che esiste questa energia, questa attrazione tra le due particelle. Quindi vedete che quello che entra di mezzo è una particella virtuale, quella che media l'interazione. Bene, il bosone di X, al pari dell'elettrone, ok? Interagisce, anzi interagisce con tutte le particelle, incluse le particelle virtuali del vuoto, ok? Questo è un concetto molto importante, che è il seguente, che il vuoto quantistico è tutt'altro che vuoto, va bene? ma è abitato da copie virtuali di tutte le particelle che esistono. Dovete immaginarvi che il vuoto pulluli di particelle virtuali, ok? Che vengono prodotte e poi spariscono di continuo. E queste non è una mera astrazione, non è un modo così, proprio inducono effetti macroscopici, per esempio inducono una forza. In particolare, ok? Se voi vi prendete il bosone, perché questo è importante per l'X? Perché la massa del bosone di X è estremamente suscettibile a queste fluttuazioni, a queste, diciamo, alle interazioni con queste fluttuazioni. In particolare, se esiste una nuova fisica, delle nuove particelle, che noi non abbiamo ancora misurato, perché sono di altissima energia e non le abbiamo ancora prodotte, che però interagiscono col bosone di X, eh, vi dovete aspettare che la sua massa ne risenti in maniera drammatica, va bene? Facciamo, per capire questo concetto chiave, ok? Vediamo un'analogia classica. Allora, immaginate che queste fluttuazioni del vuoto siano un gas, va bene? A temperatura T, e che voi mettete il vostro bosone, che inizialmente è fermo, va bene? C'è un'energia, c'è una massa, che è un'energia a riposo, arbitrariamente piccola, va bene? Lo mettete dentro, quindi nello spettro di energia la configurazione iniziale è questa, aspettate un po' di tempo e cosa vi aspettate? Vi aspettereste che se questo gas interagisce con la pallina azzurra, tende a scambiare l'impulso e alla fine la pallina azzurra sia termalizzata, ok? Cioè vi aspettereste una condizione tipo questa, che alla fine la massa, ok, di questa particella è dell'ordine del KT, ok? Dell'energia termica media del gas. Allora, se questo gas interagisce debolmente, scambia solo una parte della sua energia, insomma, potete immaginare meccanismi per cui non è proprio esatta questa termalizzazione, però la scala di energia, ok, alla quale la particella arriverà deve essere dettata da KT, perché non ce ne sono altre di scale. Benissimo, allora noi abbiamo misurato che questa massa è 100 GEV, questo ci dice l'esperimento. Allora, se esiste questo gas, ok, queste fluttuazioni del vuoto, questa nuova fisica, la sua temperatura, la sua scala di energia, non può essere troppo più grande della massa. Cioè, tanto più grande è questa scala di energia, tanto meno facile spiegarsi perché la massa dell'Higgs, in virtù di questo meccanismo di termalizzazione, sia così leggera. Va bene? Ora, uno può essere molto più quantitativo, molto più corretto, in maniera quantitativa dimostrare che, guardate, il tera elettronvolt, cioè circa 10 volte la massa dell'Higgs, rappresenta una scala naturale dove cercare la nuova fisica. Ok? Ed è per questo motivo, oltre che per scoprire l'Higgs, per sondare la natura, la scala del TEV, che è stata costruita una macchina al multitev, va bene? L'LHC. Quindi questo è un po' il quadro teorico, ok? Darvi un'introduzione di come mai è stata costruita, dove siamo, cosa ha spinto a farsi queste domande e a costruire quello che abbiamo costruito. Allora, un inciso. Perché servono i collisionatori? Va bene? Perché se questa particella esiste, perché non prendo un microscopio e la vedo? Allora, perché? Perché le particelle pesanti, ok? Incluso il bosone di Higgs, non esistono nello stato libero. Voi dovete immaginare che l'elettrone, no? Che costituisce la materia non è nulla di eccezionale, non è diverso dal suo fratello più pesante, il muone. È però il più leggero. Quindi dovete immaginare che se voi all'inizio producete tutte le possibili particelle, loro decadono finché non arrivano alla scala, alla fine della scala. Va bene? Quindi se volete voi salire la scala dovete dare energia. Dovete dare energia e creare queste nuove particelle pesanti. Quindi prima dobbiamo produrle e poi queste via via decadono e noi andiamo a vedere ciò in cui decadono. Va bene? Questo è un concetto chiave per capire i collisionatori. In particolare, se noi prendiamo due protoni, come succede all'LHC, loro vanno uno contro l'altro, hanno lo stesso impulso, quindi il laboratorio coincide col centro di massa del sistema. Allora, la somma delle energie è l'energia del centro di massa, va bene? E io sono in grado di produrre dalla collisione tutte le particelle possibili purché l'energia e impulso vengano conservate. Quindi questo è l'unico principio. Purché questo succeda, io riesco a produrre particelle che hanno potenzialmente una massa fino a 14 TeV. Va bene? Beh, allora uno direbbe, ma perché sei stato così poco ambizioso? Perché non hai costruito una macchina a 100 TeV, a 1000 TeV, no? Cioè così facile? Beh, non è così facile, perché per produrre queste collisioni i protoni devono essere mantenuti in orbita. Va bene? Lo vedremo meglio dopo. E come si fa a mantenere particelle cariche in orbita? Forza di Lorentz, ok? Un campo magnetico statico. Ora, un campo magnetico statico, sapete calcolarvi sempre da fisica 2, bene? Che se prendete una particella carica in un campo magnetico, questa con un impulso finito, ok? Questa si mette a girare in cerchio e il raggio in chilometri è legato all'energia da questa formuletta, va bene? Vedete che se E è al multitev, come nell'HC, e B è dell'ordine del Tesla, ok? Per avere qualcosa di ordine 1 qua, cioè il raggio vi gene già di decine di chilometri. Quindi una roba gigantesca. Allora, come si fa a mantenere orbite piccole? Beh, occorrono B grandi, va bene? Campi magnetici molto intensi. Ma c'è un problema, perché prendete un solenoide, facciateci passare della corrente, è campo magnetico al centro e proporzionale alla corrente. Beh, ma in un conduttore omico la potenza dissipata va come il quadrato della corrente, va bene? Per generare questi campi qua, di qualche Tesla, non ce la fareste, insomma, brucereste una quantità di corrente allucinante. Allora dovete mandare R a 0, va bene? Dovete avere conduttori non omici, ma superconduttori. Questo è il principio, non è stato il primo, ma l'HC l'ha portati veramente al limite, ok? E utilizza dei magneti superconduttori super freddi, perché la superconduttività si raggiunge a temperature bassissime dell'alioliquido, però c'è anche un limite, non la superconduttività, farete da fisica statistica, vedete che c'è un campo magnetico massimo oltre il quale, boom, lo stato ritorna in uno stato non superconduttivo. E quindi questo limite è vicino proprio a quello a cui opera l'LHC. Anche se mettete 8 Tesla, 8 Tesla è un campo magnetico gigantesco, va bene? Quello che vi viene fuori è che l'LHC ha comunque un raggio di 3 km. Quindi la scala in cui bisogna vedere queste strutture è la scala della città, va bene? Se non il linguaggio svizzero del cantone proprio. Quindi l'LHC è questo anello qui, in realtà sta sottoterra, non lo vedresti dall'aereo, e sta tra il lago di Ginevra, che è questo qui, Ginevra è qua, e il Giura, che parte qua, la catena montuosa del Giura. Ed è al confine tra la Svizzera e la Francia. Va bene? Monte Bianco sta qui, l'Italia starebbe dietro queste montagne. Cos'è l'LHC? Allora, l'LHC ospita quattro grandi esperimenti, di cui ne avete sentito parlare, probabilmente, ora ve li ricordo, la CMS e Atlas, che sono poi i nostri esperimenti, in cui vedremo più in dettaglio, sono cosiddetti general purpose. Cosa vuol dire? Costruiti e progettati per fare un ampio spettro di misure, misurare un sacco di cose, e lo vedremo bene dopo. Invece, l'HCB e Alice sono esperimenti più dedicati a un tipo di fisica particolare. Particolare, l'HCB sarà oggetto di un seminario, qua in questo ciclo di seminari. Attualmente è impresa dati, che è questo è importante dirlo, è un esperimento vivo e vitale, ed ha un ricco programma di fisica almeno fino al 2035. Cioè è stato proprio finanziato, il progetto andrà avanti fino al 2035 a sfornare una quantità enorme di dati. Allora, per capire bene quello che sta succedendo, secondo me questo filmato è l'ideale. Allora, i protoni vengono presi da una bomba di idrogeno, gli si viene strappato l'elettrone, impacchettati e immessi in una catena di acceleratori progressivi, va bene? Dal PS all'SPS, dove man mano l'energia aumenta e alla fine vengono immessi nell'anello principale dell'HC, questo che ha 3 km di raggio. All'interno dell'HC i due pacchetti vanno uno contro l'altro, in direzioni opposte, va bene? E viaggiano all'interno di un tubo a vuoto che è immerso in questo grande campus magnetico di 8 Tesla che abbiamo visto prima. Quindi in questo tubo, il protone qua, il protone è composto da quark e in determinati punti dell'anello, cosiddetti pozzi, perché sono pozzi dove viene messo l'esperimento, a destra e a sinistra arrivano questi fasci di protoni e al centro proprio dell'esperimento collidono. Collidono e poi l'esperimento misura una serie di segnali, vedete queste tracce e questi pallini colorati sono la resa grafica dei segnali elettronici che il detector misura. Ok, vedete una cosa leggendo, uno si dice, ma che cos'è questa qua? Che vento è? Ok? Allora la domanda, la meccanica quantistica vi dice che la domanda che vento è è malposta. Perché? Perché il risultato di ogni misura, che è meccanica quantistica, in questo caso di ogni collisione per noi, non è deterministico. Cioè voi fate scontrare due protoni e non sapete a priori quello che vi viene fuori. L'unica cosa che la meccanica quantistica vi prescrive sono le probabilità che qualcosa succeda. Va bene? Questa misura di probabilità che un determinato processo vi succeda lo chiamiamo sezione d'urto. Va bene? Per esempio, immaginate che da due protoni voi vogliate studiare il bosone di Higgs, lo vogliate produrre, per esempio in un canale in cui viene prodotto assieme a una particella Z, vi ricordate il mediatore delle interazioni deboli. Ok? Beh, un teorico vi può fare un calcolo perché le sessioni d'urto sono cose che in un certo modello potete calcolarvi, che è in termini dei parametri del modello, un teorico vi calcola la sezione d'urto e vi trova che è un numeretto che nell'unità standard delle sezioni d'urto, che è il barn, è circa un picco barn. Va bene? Beh, voi sapete che se mandate due protoni, ok, la sezione d'urto perché questi due protoni facciano qualunque cosa è circa un decimo di barn. Va bene? Questo vi dice che quando fate scontrare due protoni la probabilità che andiate a fare esattamente questo processo qui è di 10 alla meno 11. Una probabilità ridicola. Questo vi dà la scala di quante collisioni servano, ok, per produrre in media almeno uno di questi eventi. Ok? Bene, l'X e la Z non sono per particelle stabili. Abbiamo visto, no, che tutte le particelle pesanti sono instabili, decadono. Per esempio l'X vi decade in due quark B e la Z in un elettrone e un positrone. Bene, quello che il vostro detector vede è una cosa del genere. Per un processo così vedrebbe una serie di segnature così, dove dentro questi coni ci stanno ricostruite tutte le particelle più leggeri in cui a sua volta questo B decade, perché anche il B è una particella pesante, quindi decade e così via. E bene, quindi il problema è che una cosa del genere è difficile, no, immaginare, identificare questo processo così complicato. Ah, un'altra cosa è che, vabbè, voi producete queste due particelle, ma il resto del protone si sfascia, ok? E sfasciandosi produce una quantità enorme di piccole particelle che vanno a illuminare, tipo un albero di Natale, il vostro detector, ok? Quindi come faccio a identificare questo con questo? Beh, quindi il cuore dell'analisi dei dati è proprio quello di cercare di mappare un evento di collisione, perché voi misurate questo, cercare di mappare questo a un certo processo teorico, va bene? E tanto, e qua il detector ha un ruolo fondamentale, perché tanto migliore il detector che avete, tanta più efficiente sarà questa mappa, cioè tanto più univocamente potrete dire, ok, ho trovato questo nei miei dati, questo corrisponde a un evento così, altrimenti per la meccanica quantistica abbiamo detto che questa associazione è solo probabilistica, va bene? Non è deterministica. Allora, stando su questo esempio, no, che abbiamo un elettrone, per esempio, supponiamo che vogliamo dire se una particella è un elettrone piuttosto che una drone, per esempio un pione, come si fa? Beh, ad esempio, a questo scopo occorre che il nostro esperimento sia veramente costruito a strati, va bene? Questa è una visione nel piano trasverso, ai fasci, dell'esperimento CMS, uno di questi due, in cui siamo io e Paolo. In particolare io sono in questo esperimento, Paolo in quella e in class. Va bene, quindi vedete che ci sono tanti sottodetector e lo scopo dei sottodetector è di essere veramente capace di dirvi, con la minore ambiguità possibile, guarda questa particella che ha prodotto un elettrone, questo è un pione, questo è un muone e così via. Per esempio, quando producete un elettrone, va bene? Voi sapete che gli elettroni, in quanto molto leggeri, dentro la materia perdono tanta energia per Bremstrahlung. È una cosa che sicuramente a fisica 2 avete visto, no? La perdita di energia per il raggiamento. Bene, quindi se io metto un detector all'inizio, no? Che è molto sensibile, che riesce a generare questa radiazione di frenamento in maniera efficiente, sono in grado di stoppare tutti gli elettroni. Viceversa, una drone, una particella più pesante, produce meno energia di frenamento e arriverà, e riuscirò a stopparla con una sezione successiva del mio detector, più pesante, magari fatta in ferro, che vado a chiamare calorimetro adronico. Quindi se io riesco a separare, quindi avendo a disposizione un calorimetro elettromagnetico, questo verde, un calorimetro adronico, riesco a separare e dire questa particella era più probabilmente un elettrone, era più probabilmente un pione. Va bene? Quindi per darvi un'idea che occorre costruire i detector in moduli, al fine di dare inclusività, cioè cercare di misurare il più possibile, ermeticità ovunque, quasi a 4 pi greco, e offrire una ridondanza di misure, al fine di permettere di dire siamo o non siamo. Quindi finisco con questo esempietto che è carino, per vedere poi in dato detector cosa succede. Perché prendete anche una particella di un tera elettron volt? Se lo convertite in joule, in joule, viene fuori un'energia ridicola, no? Tipo un milionesimo di joule. Ora un milionesimo di joule non scalda, ok? Allora come si fa a misurare le particelle? Per esempio, questo è un esempio del calorimetro adronico di Atlas, vedete che è fatto, è intervallato a pezzi di materiale attivo, cioè che vi generano un segnale, materiale passivo. Il materiale attivo serve, cosa vi fa? Beh, quando una particella passa, per esempio, eccita i livelli di fluorescenza di questo materiale. I livelli di fluorescenza decadono, gli producono dei fotoni di una lunghezza d'onda caratteristica, questi fotoni voi li inglobate, li raccogliete con una fibra ottica, come quelli della comunicazione, e lo sparate verso un fotomoltiplicatore, va bene? In teoria basterebbe un fotone, ok? Opportunamente amplificato per dirvi che è passata una particella, va bene? Quindi questo per darvi un'idea di come funziona un rilevatore di particelle. Ok, qua sarò un po' più veloce, un esercizietto, no? Perché è così grande? Un'altra domanda è, ma perché dovete costruire esperimenti così giganteschi? Beh, perché questi esperimenti sono magnetici, ok? Perché dovete misurare le particelle cariche, per esempio voi sapete che l'incertezza sul raggio di curvatura di una particella carica dipende dalla lunghezza dello spettrometro al campo magnetico e dall'incertezza di posizione con questa formuletta. Questo vi dà tre direzioni, no? Vi dice detector molto precisi, campi magnetici molto intensi e grandi lunghezze. Queste sono le chiavi per avere misure precise. E su questa filosofia si incentra la costruzione di questi grandi esperimenti, Atlas ha preferito avere L molto grande, quindi è gigantesco, questa è una persona e questa qui, ok? CMS ha preferito avere L un po' più piccolo, ma un B molto grande. Entrambi si sono dotati di un cuore di silicio ad altissima risoluzione, tipo una macchina digitale, ok? Il cosiddetto tracciatore. Cosa poi si può fare con questi grandi esperimenti? Ve lo racconta Paolo. Bene. Abbiamo visto che i nostri esperimenti riescono a prendere queste foto tridimensionali di quello che sta succedendo nel nostro rivelatore quando ci sono collisioni. E ora la prossima domanda è come facciamo a passare da questi segnali che Lorenzo ci ha mostrato si formano nel rivelatore a misure delle proprietà delle particelle, come la massa del quark top, la massa dell'X, gli accoppiamenti dell'X con il resto della materia. Questo chiaramente è una grande sfida e per capire un po' quello che succede dobbiamo fare un passo indietro e tornare alle nostre collisioni. Abbiamo qualche piccola animazione per vedere appunto di nuovo le nostre collisioni tra pacchetti di protoni che avvengono con un rate di 40 MHz, quindi circa ogni 25 nanosecondi e ogni volta che questi pacchetti si attraversano alcuni dei protoni all'interno faranno delle collisioni e abbiamo più in realtà più di 600 milioni di collisioni ogni secondo. Questo ci permette di andare a pescare processi molto rari chiaramente nelle nostre misure e potete immaginare che se ogni volta che due pacchetti di protoni si scontrano andiamo a salvare tutte le informazioni sul disco, è una quantità di informazioni da salvare enorme e in effetti gli esperimenti LHC produrrebbero circa un petabyte di informazioni al secondo. Ora chiaramente questo è troppo per il tipo di informazioni che vogliamo estrarre, come vedete di nuovo qui, questa è la sezione d'urto, quindi la probabilità di avere degli urti tra protoni e vedete che in realtà il range in cui iniziamo a produrre qualcosa di interessante è molto più basso, quindi dobbiamo provare a essere furbi a sufficienza da salvare soltanto una piccola frazione di tutte quante le collisioni che abbiamo prodotto per poi poterle analizzare. Questo viene fatto in differenti passi, il primo passo è con una preselezione fatta con un'elettronica veloce che riduce di un fattore 10.000 il numero di eventi che poi andremo a salvare, nonostante questo chiaramente abbiamo bisogno di far passare al prossimo livello di selezione circa 100 gigabyte al secondo, quindi una trasmissione di dati molto molto importante. Il passo successivo è quello di prendere questi eventi che abbiamo selezionato con la prima selezione e riprocessarli in 15.000 processori circa e questi riescono a selezionarci un evento ogni 100 e quindi a ridurre di moltissimo la quantità di eventi che poi andremo a salvare sul disco. Questo chiaramente è un processo molto importante, potete immaginare come selezionare in modo errato gli eventi poi ci costringa a perdere informazioni su processi che possono essere interessanti. Quindi è uno dei punti più delicati nel disegno dei nostri esperimenti. Fatto questo, chiaramente tutti gli esperimenti mandano informazioni al primo passo di acquisizione degli eventi che è chiamato il Tier Zero, che ha circa 73.000 processori ed è al CERN. Questo viene utilizzato per ottenere tutti gli eventi selezionati dai quattro esperimenti e per poi andare a tenerne una copia nei dischi del CERN e una copia invece viene inviata verso le macchine che sono in giro in tutto il mondo in una ragnatela che vedremo tra qualche istante che è la ragnatela del grid computing. Questi che vedete colorati sono tutte le connessioni di questa grande ragnatela in giro per tutto il mondo e questi chiaramente sono i luoghi in cui poi gli eventi che abbiamo selezionato e salvato negli esperimenti andranno a finire. Quindi quando poi per chi vorrà fare questo tipo di analisi si troverà a girare il proprio job di analisi su questi dati molto spesso i vostri job saranno girati magari a Singapore, magari in Brasile, magari in Germania o in altri nodi. Chiaramente è una collaborazione internazionale che mette a disposizione tutte le infrastrutture per poter girare una quantità circa di un milione e mezzo di job al giorno di analisi. Questa è una quantità di lavoro enorme che ci permette poi di prendere queste informazioni e di condensarle alla fine in misure di alto livello come per esempio ho scelto qui un esempio per la fisica dell'Higgs dove avete la forza con cui l'Higgs accoppia e interagisce con i fermioni e con i bosoni e vedete qui uno significa modello standard perfetto e vedete come i due esperimenti ATLAS in blu e CMS in rosso danno informazioni che sono comparabili nonostante le scelte sui rivelatori molto differenti e vedete anche quanto sia interessante avere due misure indipendenti che vi permettono di controllare chiaramente che non ci sono errori e che le due misure sono ben consistenti e allo stesso tempo quanto possiamo guadagnare combinando tutte le informazioni insieme per arrivare a una misura molto precisa di quelli che sono gli accoppiamenti del bosone di Higgs con la materia. Questa chiaramente è una delle grandi sfide che la scoperta del bosone di Higgs ci ha aperto e che dovremmo cercare di migliorare nei prossimi anni con i dati che prenderemo. Chiaramente il bosone di Higgs non è l'unica cosa che possiamo misurare in queste collisioni dovete immaginare l'Higgs come una porta aperta verso un nuovo universo che è la fisica alla scala del TEV quando arrivate in un posto inesplorato la prima cosa che volete fare è fare una mappa di quello che c'è in questa mappa troverete sicuramente dei vecchi amici che già conoscete e la speranza è di trovare anche qualcosa di nuovo che invece era completamente inaspettato. Qui riportiamo le sezioni d'urto misurate da CMS e quindi se volete le probabilità di produzione di determinate particelle in asse verticale e qui tanti differenti processi che sono già stati misurati per il modello standard. Andiamo da quelli più probabili in cui nel 2016 da solo abbiamo prodotto più di 10 milioni di particelle di questo tipo a quelli meno probabili, più rare, in cui abbiamo prodotto circa un centinaio di eventi nel 2016 e potete chiaramente vedere alcune delle particelle che Lorenzo vi ha mostrato all'inizio per esempio abbiamo i bosoni W, questi che sembravano animali abbastanza esotici nella prima slide in realtà sono tra le particelle più studiate e più prodotte LHC, vedete che abbiamo varie centinaia di milioni infatti per poi andare a studiare processi in cui magari ne abbiamo due prodotti nelle collisioni oppure prodotti dei W con due fotoni e qui andiamo in processi sempre più rari o magari prodotti con il quark top o magari prodotti in associazione con il bosone DX. Questi sono tutti quanti i processi predetti dal modello standard e in questo grafico c'è il sommario di tantissime analisi che vengono fatte dalla collaborazione CMS e similmente in Atlas per misurare, per mappare tutto lo spettro di informazioni che ci vengono da queste collisioni. C'è da far notare che ogni singola misura è confrontata con la previsione teorica che è in grigio e se guardate bene in realtà tutte le misure sono perfettamente in accordo con le previsioni e inoltre l'altra cosa da notare è che ogni singolo punto di questo tipo di figure in realtà è una sfida enorme per capire la fisica alla scala del TEV quindi richiede una quantità di lavoro molto importante e ci sono normalmente gruppi di lavoro dedicati per ogni singola analisi che ci permette di capire meglio quello che sta succedendo alla fisica del TEV e poi non è chiaramente un caso, data questa ricchezza di informazioni che le collisioni dell'HC ci sta dando abbiamo moltissime pubblicazioni. Chiaramente la misura dello standard model non è l'unica sfida dell'HC ma è anche uno dei compiti dell'HC cercare nuova fisica abbiamo fatto molte searches di supersimmetria molte searches più esotiche con per esempio top partners X composti, extra dimensions, tutte cose che per chi sarà interessato tra voi verrà probabilmente, diciamo, sarà parte degli studi negli anni futuri questi plot sono molto complessi, hanno tantissime informazioni tanto per darvi un esempio prendiamo i modelli che predicono la presenza di quantum black holes e in questo plot qui questi sono i modelli, i tre o quattro dei modelli che prevedono la presenza di quantum black holes la barra orizzontale vi dice fino a che scala di energia questi modelli sono esclusi e vedete che, vi ho scritto qui per leggerlo meglio sono esclusi fino a una scala circa di 10 TeV questo è il modo con cui potete leggere entrambi e se guardate bene in realtà abbiamo già escluso buona parte dei processi per una scala del TeV questo ci pone uno dei grandi interrogativi dove sono tutti quanti? abbiamo visto dal paradigma che ci ha raccontato Lorenzo che ci aspettiamo della nuova fisica alla scala del TeV una possibilità è che la nuova fisica alla scala del TeV esiste ancora non siamo stati in grado di trovarla ma che la troveremo a breve la seconda possibilità è che c'è scala alla scala del TeV ma è appena al di là di quello che l'HC può produrre e quindi non riusciremo a vederla direttamente ma come potete immaginare una montagna alla fine del nostro panorama magari non riusciamo a vedere il picco però possiamo cominciare a vedere delle prime facciate che se ne stanno andando rispetto a quello che è un panorama completamente piatto quindi possiamo aspettarci delle anomalie e delle deviazioni da quello che è il modello standard e poi invece l'ultimo che è quello in cui invece il problema iniziale è mal posto e non c'è nuova fisica alla scala del TeV questo potrebbe sembrare un risultato negativo per l'esperimento in realtà è tutt'altro è un grande risultato per l'esperimento perché non è come non sapere quello che sta succedendo questo si sta dicendo che a questa scala non abbiamo nuova fisica e in qualche modo ci costringe a ripensare un po' qual è il paradigma con cui abbiamo pensato la fisica elettrodebole e la fisica dell'IGS vediamo un po' quali sono le opportunità che l'HC ci sta offrendo e ci offrirà nei prossimi anni ci sono tre direzioni principali per aumentare il reach di quelle che sono le misure e le searches di l'HC c'è la direzione di aumento dell'energia la direzione di aumento dei dati e la direzione delle nuove idee, nuove misure e R&D oggi siamo in questa condizione 13 TEV l'energia nel centro di massa delle collisioni abbiamo analizzato circa 3 per 10 alla 15 collisioni protone-protone questi sono circa 10 volte la statistica per quanto riguarda la produzione di pulsione di Higgs necessaria per la scoperta quindi potete già immaginare quante cose in più possiamo fare rispetto a quello che avevamo per la scoperta ne abbiamo di più già registrati che dobbiamo ancora analizzare e per chi tra di voi deciderà di lanciarsi in questa avventura chiaramente ci sono molti più dati in previsione per la fine dell'anno prossimo un fattore 5 rispetto a quelli che abbiamo analizzati finora ancora di più per il 2023 con circa un fattore 2 rispetto al 2018 e un fattore 10 rispetto a quelli che abbiamo analizzato finora e per poi passare al piano al di là di LHC con l'high luminosity LHC in cui invece aspettiamo ancora un fattore 10 quindi chiaramente possiamo esplorare moltissimo e qui abbiamo un po' riportato le tempistiche per quelli che possono essere degli studenti che vogliono indagare questa parte della fisica chiaramente ci sono moltissime misure che possiamo fare con 10 volte più dati nuovi processi possono essere esplorati siamo appena alle prime evidenze di questo tipo di decadimento dell'Higgs in B-Quarks dovremo scoprirlo e misurare le proprietà il decadimento dell'Higgs in Muoni è qualcosa che potremo fare alla fine del prossimo run quindi intorno al 2022-2023 questo altro processo anche è molto raro e ci porta informazioni molto preziose quindi ci sono molti aspetti legati alla fisica dell'Higgs che possono darci informazioni della fisica anche al di là del modello standard e poi ci sono tanti processi di produzione che sono anche questi interessanti da quelli legati strettamente alla fisica dell'Higgs fino a quelli completamente soppressi tipo questo nello standard model quindi immaginate riuscire a misurare questo tipo di processo che è previsto essere completamente trascurabile per quello che è l'HC significa praticamente riaprire completamente la partita dal punto di vista delle nuove tecnologie digitali chiaramente abbiamo altre sfide questo luglio il CERN ha celebrato i 200 picobar di dati archiviati nei dischi questa è una quantità di dati enorme che richiede nuove tecniche nuove tecnologie per poter analizzare e chiaramente ci sono problemi e soluzioni comuni con l'industria tech come Google, Facebook, Amazon che hanno questo tipo di size per quanto riguarda i dati il machine learning è qualcosa che è già diffuso nella nostra comunità ma che deve essere può essere sviluppato molto di più di quello che abbiamo fatto ora e l'idea più o meno è di passare da un evento in cui l'informazione è di circa un megabyte a un bit per dirci se è segnalo o no questa è chiaramente la versione iper semplificata ma ci possono fare moltissime cose in più per quanto riguarda le nuove tecnologie chiaramente dobbiamo avere dei rivelatori che sono in grado di dirci quello che sta succedendo e che sono sufficientemente robusti e riescono a distinguere quali sono le interazioni che avvengono nel centro del nostro rivelatore tanto per darvi un'idea una particella che viaggia circa la velocità della luce prodotta al centro di Atlas impiega 40 nanosecondi per arrivare all'ultimo layer e dobbiamo sincronizzare questa presa dati per avere un evento che è coerente su tutto il rivelatore ma ogni 25 nanosecondi avremo qualcosa di questo genere in cui ogni singola palletta gialla qui è una collisione protone-protone non so quanto è facile per voi vedere che ci sono delle linee rosse che sono probabilmente quelle più interessanti ma questo è il tipo di problema che stiamo affrontando e affronteremo sempre di più cioè avremo una collisione che è quella interessante immersa in tantissime che fanno noise e dobbiamo essere sufficientemente furbi da riuscire a capire qual è e dobbiamo avere rivelatori sufficientemente resistenti da non squagliarsi quando abbiamo tutte queste particelle che escono chiaramente quindi l'RND è chiaramente essenziale dobbiamo imparare a costruire programmare e gestire un rivelatore probabilmente esaurerò di uno o due minuti rispetto al piano costruire e programmare è qualcosa che potete sperare di apprendere già da corsi e da esercitazioni e così via ma gestire un rivelatore è qualcosa di unico e questo tipo di esperienza vi dà questa possibilità e vi dà la possibilità di farlo in una delle collaborazioni e esperimenti più all'avanguardia che abbiamo la buona notizia per voi studenti a Pisa è che Pisa è una delle poche sedi in Italia in cui c'è sia ATLAS che CMS in ATLAS abbiamo circa 15 persone coinvolte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'Università in CMS ci sono circa una trentina di persone includendo anche la scuola normale superiore e voglio ricordarvi che abbiamo una fortuna enorme nell'avere il laboratorio a poche ore di macchina da qui cioè con 5-6 ore in auto arriviamo a Ginevra e questo chiaramente fa una grande differenza per poter partecipare essere presenti al CERN e poter poi anche fare la differenza in qualche maniera l'altra differenza chiaramente è che entrambe gli esperimenti entrambe le collaborazioni sono collaborazioni internazionali e quindi avete accesso diretto al lavoro con tante persone da tutto il mondo quindi avete una grandissima diversità i gruppi in ATLAS e in CMS in CMS stanno lavorando sull'upgrade del tracciatore di CMS il cuore come aveva mostrato Lorenzo in ATLAS stiamo lavorando sul trigger di traccia e sul calorimetro adronico abbiamo commitment nel software nel computing e nelle performance stiamo lavorando chiaramente nella fisica dell'Higgs questo è uno degli ultimi risultati di quest'estate con l'evidenza dell'Higgs in BV barra e poi molte misure di fisica elettrodebole come la massa del W il vector Bosso scattering la produzione di due buzoni qual è il futuro al di là di LHC? mentre stiamo chiaramente andando avanti con l'analisi dobbiamo guardare anche cosa c'è oltre e ci sono molte opzioni che stiamo discutendo LHC come abbiamo discusso ha un programma fino al 2023 a 14 TEV per poi andare ai luminositi LHC in cui avremo due o tre volte il rate di collisione che abbiamo al momento il che vuol dire che saremo molto più veloci ad avere dieci volte più statistica rispetto a quella che avremo nel 2023 per poi passare all'high energy LHC con un'energia al centro di massa di circa due volte il primo workshop per descrivere la fisica di questo upgrade c'è stata la settimana scorsa e poi andare a altre opzioni molto più grandi come il Future Circular Collider di un centinaio di chilometri di circonferenza per arrivare anche all'energia di 100 TEV e acceleratori lineari di altissima energia per chi è interessato i gruppi di ricerca in questo settore si hanno organizzato una scuola per Master Students e PG Students l'anno prossimo a Pisa e siete invitati a partecipare chiaramente questo non è tutto ci sono ancora motivi in soddisfazione che sono quelli che Lorenzo vi ha spiegato prima la gravità, la materia oscura l'energia oscura la questione sull'antimateria sono tutte questioni che sono ancora aperte e vanno affrontate motivi estetici che sono gli stessi che Lorenzo vi ha introdotto prima tuttavia quasi tutti i problemi aperti nel modello standard hanno a che fare con il bosone X e quindi questo è un po' il principe per l'indagine che stiamo svolgendo per concludere l'esistenza del bosone X ha chiuso un periodo diciamo epico nella costruzione del modello standard e della fisica delle particelle e ne ha aperto un altro con tutta una serie nuova di domande a cui dobbiamo dare risposta abbiamo motivo di credere che c'è nuova fisica alla scala del TEV anche se non c'è un teorema e quindi sarà importantissimo dare un feedback sperimentale su quello che è la fisica al TEV a LHC e qui quindi ritorna in gioco quant'è importante spendere le proprie forze per capire questi aspetti il run 2 di LHC è in corso e avremo molta più statistica che arriverà chiaramente nuove idee nuove tecnologie sono cruciali per questo tipo di lavoro e per poter affrontare al meglio le nuove sfide che arriveranno è sicuramente un settore in divenire in cui è possibile fare una grande crescita questo è tutto grazie per l'attenzione ringrazio ancora i direttori e gli organizzatori del seminario ringraziamo gli speaker ringrazio il speaker per questa occasione immagino che in questa foto i due spokesperson stessero guardando la prima evidenza sperimentale dell'X con la speranza che ricabiti magari qualcosa di simile in futuro ci sono domande per Paolo e per Lorenzo vediamo se prima c'è qualche studente qualche domanda qualche curiosità allora li faccio riscaldare io avrei da dissentire in qualche modo sulla vostra ricostruzione delle motivazioni teoriche per esempio il modello standard con la massa a 125 va bene non c'è nessun problema di naturalezza la naturalezza nasce da ipotesi ulteriori che io sappia non ci sono veri argomenti robusti che fanno prevedere una nuova fisica al tempo anzi le indicazioni che esistono indicano che la nuova fisica ha una scala che potrebbe essere superiore ai 10 alla 10 Gev questa è la fisica teorica adesso poi la mia impressione è che le altre affermazioni sono più che alto delle speranze forse supportate da argomenti in qualche modo più o meno di fisica teorica ma più o meno la maggioranza dei fisici teorici non concordano sul fatto che ci si aspetta qualcosa ai 14 Tev quindi se voi non la trovate non è che avete fatto una grossa scoperta molti dei fisici teorici lo sottoscrivono già da adesso cioè sarebbe veramente una sorpresa ecco non è la sorpresa non è non trovarla non ribaltiamo un po' la ecco quindi questa ricostruzione mi sembra non molto realistica forse si rifà a quando si scrivevano le motivazioni iniziali per costruire le HC quando la supersimmetria era più in voga adesso stiamo coi piedi per terra adesso la fisica teorica ha le sue predizioni quelle robuste quelle meno robuste adesso tra quelle robuste non esiste la physical te la nuova physical te per quel che ne so questa è proprio la sfida cioè riuscire a vedere cosa troviamo chiaramente abbiamo una macchina però a me sembrava che la presentazione facesse dalla fisica teorica se aspettiamo questa fisica non la troviamo più sofferta non la trovarà se la troviamo è per forza è chiaro che se la troviamo ci sono opinioni non univoche su queste su questa questo statement però sentiamo Paolo vuoi raggiungere qualcosa ma diciamo c'è un aspetto che è più o meno coerente appunto con questa descrizione chiaramente ci sono molte idee su quella che può essere la fisica alla scala del TEV che ancora non abbiamo esplorato chiaramente quindi c'è tutto un programma necessario per poter capire quello che c'è il fatto che esista o non esista una teoria che ci spiega dei fenomeni alla scala del TEV non è vincolante nel doverla cercare nel poterla descrivere detto questo chiaramente diciamo c'è una call importante nel poter indagare al meglio possibile tutte quante le opzioni che abbiamo con la quantità di dati che avremo a disposizione in più nonostante la scoperta dell'X sia stata uno dei diciamo dei milestone principali per la fisica delle particelle le proprietà che riusciamo a misurare oggi sono ancora non precisissime e con molta più statistica riusciremo sicuramente a fare molto meglio e lì possiamo aspettarci da avere grandi sorprese non c'è niente di ovvio nell'assumere che le seconde generazioni accoppino come previsto dal modello standard per esempio non c'è nessun ovvio motivo per cui non debba esserci qualche tipo di violazione di CP negli accoppiamenti dell'X con i differenti particelle e questi sono tutti aspetti che richiedono molta più statistica per essere affrontati e che richiedono un grandissimo lavoro sperimentale quindi ribaltando un po' l'argomento ribaltando un po' l'argomento abbiamo un modello che è più o meno concluso e sta un po' al lavoro dello sperimentale nel riuscire a testarlo il più possibile e nel portare il lumicino per indagare questo nuovo universo che è completamente oscuro ancora abbiamo riscoperto le cose che già sapevamo e c'è tutto un nuovo universo che dobbiamo ancora esplorare qualche altra domanda curiosità chiaro a tutti qualche commento tra le cose di precisione che ancora non si sanno del modello standard ci sono gli accoppiamenti dell'X ai vari particelli e leptone e con il prossimo run di LHC saremo in grado di avere una misura di precisione su queste cose che potrebbero nascondere eventualmente appunto nella non lo so c'è anche la slide un po' di slide del tipo X e Quo Vadis per dare un'idea appunto cosa si è fatta fino ad ora si sono fatte come dire l'elefante nella stanza la cosa un po' più facili sono state misurate poi via via passa il tempo ora siamo qua i decadimenti X in Tau Tau X in B ormai sono stati vabbè X in B c'è un'evidenza X in Tau Tau misurato con un'incertezza circa il 20% poi via via passa il tempo qua nel run 3 quindi a partire dal 2020 in poi cominceranno a essere aperti canali più rari decadimenti X in 2 muoni X in Z gamma un altro processo molto importante e poi via via si fanno fare misure differenziali sempre più precise andare a misurare osservabili in due o tre dimensioni ok la famosa gallina dalle uova d'oro che per l'HC sarebbe misurare l'accoppiamento trillineare quello è un po' combattuto alla questione ma le proiezioni ultime dicono che combinando due esperimenti alla fine della iluminosity forse si arriverà a un 3 sigma che è un'incertezza circa il 30% sulla misura della lambda dell'accoppiamento dell'accoppiamento del self coupling questa è diciamo proprio l'ultimo la cosa più importante che dovremmo uno dei progetti fondamentali uno degli obiettivi fondamentali della luminosity diciamo per quanto riguarda l'X è questo qua poi se vuoi andare a misurare l'X in charm è difficile è difficilissimo anche dell'HC poi più o meno si è coperto lo spettro l'accoppiamento al top ormai si è misurato diciamo questo dovrebbe concludere concludere la pletora di cose che si possono misurare per misurarle meglio un altro discorso per misurarle meglio poi serviranno macchine opportune probabilmente le generazioni successive di collisionatori macchine più e meno eccetera però alla fine diciamo questa cosa abbiamo diciamo l'ordine di grandezza per gli accoppiamenti è il 5% l'ordine di grandezza è un'incertezza sugli accoppiamenti per esempio sui B e sui Tau e sul top il 5% è un obiettivo che gli esperimenti si sono posti va bene se non ci sono altre domande ringraziamo i due speaker Paolo e Lorenzo e vi ricordo che il prossimo incontro ci sarà non me lo ricordo 29 mercoledì 29 novembre mercoledì 29 novembre anche quello sarà ancora diverso perché sarà di tipo teorico l'argomento sarà teorico e non più una ricerca sperimentale tenuta dal professor Vicari e quindi ci vediamo mercoledì 29 novembre ricordatevi di votare sul sito per scegliere l'argomento del quale parleremo poi a febbraio arrivederci a tutti applausi grazie grazie grazie